Filomena Delli Castelli, una donna della democrazia cristiana, il tema del convegno che si è svolto all'Aurum di Pescara. Nel corso dell'evento organizzato dall'Istituto di Cultura Giuseppe Spataro, presieduto da Licio di Biase, è stato presentato il volume Molti passi del mio percorso insieme all'onorevole Filomena Delli Castelli, scritto dall'ex sindaco di Montesilvano Renzo Gallerati. Presente anche Antonio Delli Castelli, nipote di Memena, come era conosciuta, la signora della Costituente ed altri personaggi del mondo dell'istituzione e della cultura. Sì, il suo spataro già da tempo è impegnato nella rilettura dell'esperienza politica dei democrazia cristiana nella nostra regione. Lo scorso anno c'è stato un grande approfondimento sul Remo Gasper in occasione del centenario della nascita, oggi su Filomena Delli Castelli durante l'anno avremo altre significative esperienze, incontri, tra cui una grandissima giornata è dedicata a Lorenzo Natali a fine anno. Filomena Delli Castelli è stata una donna straordinaria, pensate a 30 anni, in Abruzzo, appena dopo la guerra nel 1946, una donna di 30 anni, appunto, giovanissima, viene eletta alla Costituente. E da lì parte una grande esperienza politica, significativa, con una donna in primo piano. Ecco, pensate, oggi noi parliamo tanto dell'impegno politico delle donne, eppure nel 1946 una donna abruzzese, di una regione a quel tempo arretrata come l'Abruzzo, riesce a sfondare, ad essere protagonista della democrazia cristiana. Poi farà la parlamentare, poi anche il sindaco di Montesilvano. E quindi noi vogliamo, con questi eventi, con queste manifestazioni, non ripercorrere in maniera nostalgica questo passato, ma rileggere nella giustezza storica questo passaggio, perché molte volte l'attuale contesto politico dimentica l'esperienza di tanti personaggi importanti per la nostra regione.